Grazie a tutti. 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 La questione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti i dettagli di questa vicenda con la replica del Presidente Bardi che dice appunto in via di definizione il capitolato di appalto relativo ai nuovi servizi di assistenza tecnica per quei 100 professionisti rimasti appunto senza contratto. E cambiamo argomento parlando di lotta all'usura e all'estorsione approvata dalla Regione la ripartizione dei fondi disponibili 500 mila euro per dare sostegno alle vittime. I dettagli da Donato Valvano. Via libera dalla Giunta regionale al piano di adozione annuale per la ripartizione del Fondo regionale di prevenzione e solidarietà destinato alla lotta contro l'usura e le estorsioni. Il fondo che ammonta 500 mila euro è stato suddiviso in diverse voci di spesa. 150 mila euro saranno destinati a finanziamenti integrativi e accessori in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa statale per supportare le attività di cofidi. Una parte significativa pari a 232 mila euro sarà utilizzata per coprire i costi di gestione delle organizzazioni che operano in Basilicata offrendo consulenze e accompagnamento professionale alle vittime aiutandole a superare sia gli aspetti economici che quelli psicologici legati all'usura e all'estorsione. Infine 118 mila euro saranno riservate a contributi una tantum per le vittime che copriranno spese legali, l'acquisto di strumenti di videosorveglianza e altre necessità compresi danni materiali, fisici e psicologici. Il fondo prevede anche iniziative di microprestito a tasso zero gestito dal Comitato per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura per garantire un sostegno concreto alle vittime aiutandole a riprendere il controllo delle proprie vite. E adesso andiamo a Maratea da sogno di sviluppo a incubo ex PAMAFI tra inquinamento e degrado la politica si svegli. Lettera aperta di Pietro Simonetti all'assessore regionale all'ambiente Mongello ci sono 8 mila metri quadri di rifiuti pericolosi. Il referente del centro studi economici e sociali della Basilicata fa il punto sulle situazioni di degrado ambientale nella nostra regione e soprattutto relativamente ai siti industriali dismessi come appunto il capannone dell'area. Parliamo di 30 ettari pari a 40 campi di calcio del sito della cooperativa agricola Flomar Ex PAMAFI. Si tratta appunto di uno stabilimento istituito negli anni 50 con un'azienda floroviva estica sul quale ci sono appunto anche i riflettori puntati della magistratura in particolare della procura di Lago Negro anche a seguito del recente incendio del 2022 sul quale appunto ci potrebbe essere un rischio ambientale. Tutti i dettagli a pagina 2 della Nuova del Sud di oggi andiamo avanti a pagina 5. Si parla di lavoro in particolare di APEA a tutelare gli 11 dipendenti incontro presso l'assessorato all'ambiente e dai sindacati preoccupazioni per il destino dell'agenzia. L'impegno a trovare una soluzione anche per dare continuità al servizio di tutela e monitoraggio. E anche qui si continua a parlare di lotta all'usura come abbiamo sentito nel servizio e ha approvato il pieno risorse per 500.000 euro. C'è poi la cronaca, prima le sferra un pugno in pieno viso, poi la minaccia di morte. Arrestato a Tito, 42enne straniero, dopo una richiesta di aiuto al 112. Immediato l'intervento dei carabinieri, l'uomo vessava e maltrattava la compagna di continuo e il GIF del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto. Ultima pagina, occupandoci di turismo, numeri in chiaroscuro in Basilicata. Alla vigilia di ferragosto, le presenze nelle strutture ricettive fanno registrare una flessione del 10% bene le strutture agrituristiche lucane che si preparano al tradizionale assalto. Salvatore Colucci Sarà un ferragosto in chiaroscuro per le strutture ricettive lucane dove le presenze fanno registrare un calo del 10%. Alla vigilia del ferragosto si prevede il tutto esaurito soprattutto nelle località balneari sia Maratea che lungo la costa ionica lucana, mentre le aree interne fanno registrare i numeri più preoccupanti. Anche a Matera non ci sarà il sold out, ma la città dei sassi può già contare su numeri interessanti per i mesi di settembre-ottobre con l'80% delle camere già prenotate secondo le stime delle associazioni del settore. Sorridono le strutture agrituristiche. Con circa 15.000 posti ai tavoli e un giro d'affari tra i 600 e 700.000 euro, le 130 strutture lucane si preparano all'assalto di ferragosto. Turismo Verde, agenzia agrituristica della CIA, conferma il tradizionale tutto esaurito già da settimane. I costi leggermente ritoccati rispetto all'anno scorso variano da 40 euro a 65 euro, con il numero maggiore di aziende a 40 euro per il meno un fisso composto da numerosi antipasti, due primi con pasta rigorosamente fatta a mano, la tradizionale grigliata di carne mista, contorni frutta e dolce della casa. Se la cucina a chilometro zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l'agriturismo è la spinta verso un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, curiosi e ambientalisti. Oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici, o naturalistici o wellness. E le imprenditrici lucane sono al top con un'incidenza vicino al 50% tra i titolari di agriturismi. E il punto sulle previsioni di Ferragosto negli agriturismi lucani. Lo facciamo a pagina 9 della Nuova di oggi. 15.000 posti a tavola pronti per l'assalto, l'abbiamo sentito nel servizio. Le stime del tavolo verde della CIA per un tutto esaurito, già da settimane nelle 130 strutture agrituristiche della nostra regione, andamento positivo con un giro d'affari di circa 600-700.000 euro. Potenza e provincia ancora turismo di visitatori, neanche l'ombra ancora una domenica d'agosto con il capoluogo svuotato di spalla a 50 quiloni in volo sul cielo del Monte Carmine. Siamo adesso a pagina 13. Parliamo ancora di turismo in vista di Ferragosto. Dopo quattro anni di attesa, il castello di Lago Pesole finalmente riapre al pubblico. Da Ferragosto gli spazi visitabili saranno il cortile maggiore, la Cappella Palatina e il Museo dell'Emigrazione Lucana. Andiamo adesso a pagina 20. Un viaggio travolgente e nostalgico a Maratea, Curriere e la sua band per i 40 anni di Saranno Famosi. Appuntamento a Parco Tarantina alle 21.30 per rivivere le atmosfere che hanno reso fame un fenomeno di culto. E a pagina 18, come sempre, trovate l'inserto dedicato, la nuova estate dedicato agli appuntamenti in giro per la Basilicata. Oggi alle 21.00 a metà ponto al Castello Torremare c'è il live, il concerto di Cosmo. A Bella invece in programma il concerto dei Renanera. Ci sono gli appuntamenti che troverete, non soltanto quelli di questa serata, ma fino al prossimo 20 agosto. Adesso c'è lo spot con le Olimpiadi di Parigi all'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parteciperanno quest'anno anche gli azzurri. Arrivati i quarti e così a Quirinale il 23 settembre prossimo, oltre alla fiorettista potentina Francesca Palumbo, ci sarà anche il nuotatore di Sasso di Castalda, Domenico Acerenza. Sentiamo Luigi Santopietro. L'adrenalina ha fatto sperare in un risultato leggendario, ha fatto piangere per quel tocco, come l'espressione dipinta sul volto di Domenico Acerenza davanti alla gioia irrivenente della Repubblica, Sergio Mattarella, di rendere omaggio non solo ai medagliati, ma anche agli atleti italiani che hanno sfiorato il podio, è stata particolarmente azzeccata. E così, nella cerimonia di riconsegna del tricolore, prevista al Quirinale il prossimo 23 settembre, ci saranno non solo gli atleti che hanno firmato un medagliere da record, 40 podi di cui 12 ori, battuto anche Tokyo 2020, ma anche chi la medaglia l'ha mancata di un soffio, tra questi anche con Francesca Palumbo, entrata nella leggenda dello sport lucano grazie all'argento conquistato con la squadra di Fioretto. Poi sarà tempo di tifare per Donato Telesca, che cerca il colpaccio nelle Paralimpiadi che prenderanno il via a fine agosto. La piccola Basilicata vuole... Restiamo allo sport con il calcio di Serie C. De Giorgio cerca continuità, il Potenza torna ad allenarsi al Viviani dopo il successo in Coppa Italia contro il Cerignola. Buone impressioni all'esordio. Ora servono conferme. Domenicale 18 sfida in casa del Benevento. Resinati intanto i prezzi dei biglietti per le singole partite, gli abbonamenti a ribasso convengono. E fanno gola ai dettagli nel pezzo di Salvatore Colucci a pagina 21 della Nuova del Sud di oggi. Diamo uno sguardo alla prima pagina del quotidiano del Sud, edizione Basilicata. Mare pulito, controllato quattro volte ogni mese. Parla il sindaco di Pisticci. La contaminazione microbiologica rilevata riguarda solo un tratto definito del basento. Nel taglio basso picchia la compagna, scatta l'arresto a Tito. Intervento dei carabinieri in piena notte le avrebbe sferrato un pugno all'avvolto. Castello di Lago Peso le riapre a Ferragosto, chiuso dal 2021, riapre appunto il maniero federiciano. E chiudiamo quest'ampio spazio dedicato alle notizie della Basilicata dando uno sguardo al tempo previsto per oggi con i nostri esperti. Ben trovati ad un aggiornamento meteo per la giornata di martedì con l'anticiclone, una bolla africana che interesserà tutta l'Europa meridionale. Sole, grande caldo. Mentre i violenti temporali inizieranno a formarsi tra il nord della Spagna, la Francia e i Paesi Bassi per infiltrazione di aria più fresco oceanica. Nel dettaglio, sull'Italia, una giornata ancora con assenza di temporali e grande caldo da nord a sud, caldo primente, temporali comunque dal pomeriggio su Alpi, Prealpi, Ovest, Piemonte e aree più interne appenniniche. La mappa ci mostra di fatti il tanto sole da nord a sud con dei temporali sui monti durante la seconda parte del giorno. In pianura invece massime che si spingeranno fino a 39 gradi tra Veneto e Emilia Romagna, 38-40 gradi anche sull'entroterra del centro sud. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo. Previsioni per oggi Cielo sereno o poco nuvoloso, in montagna schiarite ma con locali temporali. Putin, Israele allerta per l'attacco iraniano, Biden chiama Meloni e gli altri leader europei, gli ucraini presi mille chilometri quadrati in Russia, la reazione dello zar cacceremo il nemico nel taglio centrale, si parla di roghi di emergenza, incendi in Grecia, il fuoco minaccia Atene, la Grecia chiede aiuto all'Unione Europea, Roma invia i Canadair nel taglio basso, carceri e un piano, ne parlerò al Quirinale. L'intervista al ministro della giustizia Nordio. Siamo alla prima di Repubblica, Ucraina e Medio Oriente in primo piano, si parla appunto di fronti di guerra come titola Repubblica, Kiev occupa millecento chilometri quadrati, Putin minaccia dell'Occidente, allerta invece per l'attacco iraniano su Israele, Biden e l'Europa dicono fermatevi. Andiamo adesso alla prima pagina della stampa, Europa e America, l'Iran si fermi, il Pentagono muove navi, il ministro di Teheran a Tajani dice reagire è un nostro diritto, Biden chiama i leader di Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania, si teme una offensiva. Entro 24 ore nel taglio alto balneari, niente proroga, ci sono i rimbossi, l'esecutivo recepisce le direttive europee, fitto tratta sugli indennizi, si avvicina la nomina, commissario europeo. Il dossier di spalla ai due anni di Meloni dalle sfide interne agli equilibri globali, anatomia della Premier, Giorgia. Il fatto quotidiano, anche qui c'è la guerra in primo piano, il missile inviato a Kiev che allarma il governo nazionale. Nel taglio alto, Chigi aumenta gli stipendi, regioni in ferie con piccole mance. E siamo alla prima del domani, imminente la risposta di Teheran, anche qui si parla del fronte medio orientale della guerra, USA e Israele pronti all'escalation, ma la via diplomatica resta aperta, in Cisgiordania il potere di Amass si allarga. Il giornale, reddito delle famiglie, l'Italia cresce più di tutti, i paesi del G7 salari su del 3,4%, ipotesi tassi dei conti correnti più alti per aumentare il gettito fiscale. La prima di avvenire, bombe sulle tregue, i missili di Israele colpiscono una scuola in cui erano nascosti i terroristi, decine di morti. Il sole 24 ore, il quotidiano economico, finanziario, turismo, l'inflazione, il caro prezzo, si frenano le vacanze degli italiani, lo scenario anche in vista di Ferragosto. Nel taglio centrale, piano per la banda ultralarga, servono 800 milioni di euro per salvarlo. E sempre nel taglio centrale si parla di smartphone, intelligenti, Google, sfida, Apple. Chiudiamo con la gazzetta dello sport, Juve Milan che giro, Calulu bianconero può aprire la giostra, la signora prende il difensore sul piatto con i rossoneri, anche Chiesa, Milik e Sale Makers. E questa era l'ultima prima pagina della nostra rassegna stampa di oggi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione regionale torna alle 13.50 con la prima edizione del nostro Tg. Da parte mia è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS